Buonasera a tutti, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Oggi è andata in onda una nuova puntata del Daytime di Amici e tutti, ma dico tutti, sono impazziti per il tutorial di danze latinoamericane di Nunzio, ma vediamo nei dettagli che cosa è accaduto. Nunzio, concorrente di Amici, ha preparato dei video tutorial di danze latinoamericane, tutto questo per cercare di placare le divergenze con la maestra Celentano. Lei infatti aveva detto delle parole un po' brutte nei confronti di Nunzio, chiamandolo spavaldo, chiamandolo arrogante e via dicendo. Più volte infatti la maestra Celentano ha affermato che Nunzio quando balla sembra una tarantola e che gli manca l'eleganza che invece vede ad esempio il Leonardo. Così il ballerino ha deciso di fare un tutorial, anche in inglese, per spiegare i passi alla maestra, vista la sua poca conoscenza di danze latinoamericane. E' inutile dirvi ragazzi che questo video è diventato subito virale entrando anche tra le tendenze di Twitter. Nunzio infatti dedica queste lezioni personale di latino proprio alla maestra Celentano per farla parlare un po' ma soprattutto anche per stuzzicarla. E tu che cosa ne pensi? Hai visto il video dove Nunzio balla e fa questi tutorial? Scrivimelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale perché solo così non potrei perderti questo ma nessun altro prossimo video.